Due nuovi veicoli, denominati Quader, dei veicoli a quattro ruote ma con le caratteristiche tipiche di un motociclo. Sono stati assegnati, incomodato d'uso gratuito, all'arma dei carabinieri e il comando generale ha deciso, in via sperimentale, di impiegarli da subito sul territorio di Rimini. Veicolo agile, scattante, che consente un pronto intervento ancora più tempestivo e rapido da parte dei carabinieri, operando però con maggiore sicurezza perché se da un lato riunisce le caratteristiche proprie di un motociclo, dall'altro racchiude tutte le caratteristiche di sicurezza proprio di un veicolo a quattro ruote. Le modali di impiego saranno al servizio del cittadino, quindi sicuramente servizi di preillustrazione sulla zona marina, sul centro storico della città, sul litorale che in questo periodo è particolarmente affollato, senza mai però dimenticare l'entroterra cittadino che in questo periodo richiede comunque un'azione di presenza costante e continua da parte dell'arma, in quanto i residenti sicuramente si assentano e vogliono la presenza dell'arma rassicurante sul proprio territorio.